Per la collana a strade, il gruppo Albatrosilfilo presenta un libro di Lavinia Gargiulo. Una storia d'altri tempi, sospesa in un passato che sembra distante ma non lo è. Un racconto al femminile in cui gli uomini sono solo uno dei tanti colori di un quadro complesso. Una penna delicata quella dell'autrice ma che sa diventare impietosa e talvolta pungente. Un velo di nostalgia per un'epoca forse un po' più dura ma di certo meno confusa di questa. La testimonianza di un riscatto che si snoda come un filo che unisce più generazioni. Un intreccio che supera il tempo e si incastona nella memoria rendendo eterni i suoi messaggi. La donna di Coriandoli Di Lavinia Gargiulo Gruppo Albatrosilfilo In tutte le librerie